Roghi Tossici, Rom, Fake News, Camorra, parla di questo e tanto altro il nuovo libro di Marco Aragno Cancellare la città, in uscita oggi per Trans Europa. Nato all'interno di una collana ambiziosa come Wild World, che si propone di riscrivere i fatti più importanti della cronaca quotidiana in chiave distopica, il romanzo racconta di un giornalista che è l'esatto contrario di Giancarlo Siani, impegnato a difendere una menzogna anziché la verità per conto di un editore politico di estrema destra coinvolto nella morte di un bimbo rom. Ieri è ennesimo rogo tossico qui a Giuliano, oggi esce il tuo romanzo Cancellare la città. Da dove è nata l'idea di scrivere un romanzo proprio su questo tema? Sembra una sinistra coincidenza ma in realtà non lo è perché i roghi tossici fanno parte ormai del nostro universo percettivo. Sono l'ordinarietà, non c'è giorno, non c'è mese che non si stadia un rogo tossico all'orizzonte tra Giuliano, Mugnano e in generale nell'Interland Giulianese. L'idea mi è venuta nel 2015 quando scoppiò uno dei roghi più devastanti che Giuliano ricordi, ovvero il rogo al deposito di Luca. Un evento che per il suo impatto distruttivo ha segnato penso l'immaginario collettivo e individuale di tutti. Sulla terra dei fuochi è stato scritto tanto in questi anni, da Saviano Congomorra a tantissimi altri autori. In che cosa è diverso il tuo romanzo e soprattutto ha anche questo un valore di denuncia? Io penso che la narrativa abbia sempre un valore di denuncia, laddove riesce a scuotere la coscienza dei lettori e quindi a produrre un impatto estetico. Il mio romanzo racconta la terra dei fuochi da una prospettiva diversa. prende spunto dalla cronaca ma poi imprime ai fatti e quindi alla cronaca stessa una curvatura per così dire fantastica, onirica, in parte surreale. Ma riesce a chiamare in causa la responsabilità trasversale di tutti. Nel mio romanzo infatti carnefici e vittime si confondono. Giornalisti, politici, camorristi e rom sono tutti responsabili del disastro della terra dei fuochi. Grazie a tutti.